Fraitalo, ritorniamo in diretta con un collegamento d'eccezione come anticipato, lo vedo già nel nostro maxi schermo, è con noi il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Buongiorno direttore, bentrovato. Benvenuto direttore. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito, eccomi qua. Grazie a lei per la disponibilità, inutile dirle quanto siamo felici di questo collegamento, tanto più che a breve partirà la diciannovesima edizione del Festival, organizzato dal Sole 24 Ore, il Festival dell'Economia di Trento, quest'anno tra l'altro con un titolo molto particolare, Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo. Stiamo scaldando i motori, ormai ci siamo, è un grande appuntamento dell'anno, nel 2023 abbiamo avuto in quattro giorni 40.000 persone, soprattutto giovani, che si sono alternati a Trento e quest'anno contiamo di fare ancora meglio. Il programma è un programma davvero significativo e tutto all'insegna del titolo. Il titolo, lo hai ben ricordato, è Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo. Lo abbiamo scelto perché questa è un'epoca di grandi punti interrogativi, di grande incertezza. E' importante che ci siano scelte consapevoli e che queste scelte consapevoli le facciano i popoli e non chi li governa. E' importante perché sono scelte da cui dipendono i destini del mondo. Ecco, ci richiama con questo suo intervento ad una responsabilità personale, ognuno di noi deve fare la propria parte. E' un po' il senso del nostro programma, la regola della sostenibilità, rendere più consapevoli, spronare alle buone pratiche quotidiane. E' vero però anche che senza il supporto dei governi forse non si arriva così lontano, dico bene? Sì, certo, è proprio così. Però servono scelte, ripeto, consapevoli e per fare scelte consapevoli occorre un patrimonio di conoscenze che spesso non c'è. Faccio un esempio, la transizione energetica. Si stabiliscono dei principi che sono da tutti condivisi. Il problema poi è che quando si passa dal dire al fare non c'è un'esatta consapevolezza di che cosa questo significa. E' chiaro che anche qui ricorre un esempio, l'auto elettrica. Ma chi è contrario a un mondo in cui le automobili inquinino di meno? Nessuno. Il problema è se davvero l'auto elettrica è la risposta a questa necessità. E anche in quali tempi questo processo è bene che venga compiuto. Non c'è, io credo, una consapevolezza diffusa di quello che questo significa. Ma faccio anche un altro esempio, la geopolitica. La geopolitica oggi siamo in un mondo in cui sono in corso 60 guerre. Una di queste è in Europa, in Ucraina. Ma chi avrebbe mai detto che la guerra sarebbe tornata in Europa? Invece è così, è così da due anni e adesso ce n'è un'altra, un tiro di schioppo. In Palestina. Ma come si esce da questa situazione? Dobbiamo davvero rassegnarci a uno scenario in cui la guerra è tornata a essere strumento di soluzione dei conflitti? Oppure c'è una strada diversa? Ecco, su questi argomenti è bene che cresca il dibattito, il confronto. E da questo punto di vista il Festival del Colone di Trento è una straordinaria occasione perché vede un scenario di coinvolgimento di tante personalità che magari la vedono su fronti diversi ma che saranno lì per confrontarsi. E da questo confronto, da questa dialettica, io l'obiettivo è quello di far crescere per l'appunto la consapevolezza delle scelte. Sì, sarà poi che proprio in questa domanda dove vai è un po' nascosto tutto questo, proprio voler aprire gli occhi circa quelle che sono le tue vere intenzioni. Pietro se l'ha rivolta insomma, però poi alla fine l'ha trovata riversata su se stesso. Non voglio complicarla troppo, però sarà che c'è effettivamente in questo clima un po' una situazione di slogan contro concretezza e siamo ormai al momento di dover passare agli slogan a ciò che è la concretezza? Io credo che sia importante che nel passaggio dal dire al fare si colgano i pro e i contro, si capisca quali sono le spinte che è opportuno seguire e quali sono invece le controindicazioni che è importante tenere presenti. In questo percorso noi avremo presenze eccellenti, ricordo 5 premi Nobel, 80 cattedratici da università di tutto il mondo, esponenti anche della politica italiana e internazionale, ma soprattutto del mondo delle università, perché questo è un festival che è un festival soprattutto di giovani e saranno loro anche quest'anno i protagonisti. Il mondo dell'università è un mondo che seguiamo da vicino anche noi, non a caso il collegamento successivo sarà con l'università del Salento dove si stanno sviluppando dei progetti di acquaponica molto interessanti, una delle pratiche di agricoltura più sostenibili al mondo oggi. Direttore, diciannovesima edizione, ecco per restare un po' sulla scia della differenza, della distanza tra il dire e il fare, in questi 19 anni secondo lei che cosa è cambiato sul versante dei pro? È cambiato il mondo, se noi pensiamo a com'era la nostra vita 20 anni fa e a com'è oggi, davvero siamo stati tutti protagonisti, a volte senza rendercene neanche del tutto conto di cambiamenti epocali, voi pensate, basta ricordare che cosa ha significato lo sviluppo di internet oppure della telefonia cellulare, ormai gli smartphone è come se fossero il terzo braccio oppure ancora di più una seconda testa di tutti noi, nel bene e nel male. Ma dobbiamo avere la consapevolezza e a questo serve anche il festival di Trento di quest'anno, per l'appunto la diciannovesima edizione, che questi cambiamenti epocali sono nulla rispetto a quelli che ci aspettano. Primo tra tutti l'intelligenza artificiale, sta già ora cambiando la nostra vita e la cambierà sempre di più sia nella parte personale sia in quella del mondo del lavoro e per questo all'intelligenza artificiale sono dedicati una decina dei tanti eventi programmati in questi quattro giorni. Avremo anche padre Benanti, il francescano che è a capo della commissione che ha nominato il governo proprio sull'intelligenza artificiale. Ecco direttore, noi entriamo con questa tv nelle case delle persone cercando proprio di riuscire a portare concretezza e consapevolezza sui temi della sostenibilità e non è facile perché ci sono tanti termini tecnici, ci sono tante cose che a volte possono sembrare solo teorie. Però cogliamo il sentimento delle persone a casa che a volte è quello di una certa sfiducia perché soprattutto vedono i loro figli che non trovano lavoro, vedono cambiare tante abitudini della società e non sono però loro gli addetti ai lavori, quindi sentono di doversi affidare a qualcuno e oggi c'è il suo volto, il tuo volto, voglio darti del tu, nelle loro case. Ti senti di dare a loro una promessa, una speranza nel dire ci sono persone come me che si stanno occupando di queste cose pensando anche al vostro bene e quindi dove voi non potete arrivare ci sono le nostre braccia, le nostre competenze, le nostre menti e la nostra voglia di impegnarci per il bene. Io però rivolto la frittata, se mi permetti, e dico che ognuno il destino deve prenderlo nelle sue mani e quindi non delegare ma cercare di capire e il passaggio successivo è essere protagonisti di cambiamenti che possono avvenire anche nel quotidiano. C'è una realtà che ha tante facce e sono proprio quelle che verranno raccontate nel Festival di Trento e sono facce che riguardano la vita di tutti noi. Hai parlato dei giovani, delle difficoltà di trovare lavoro. Ecco, la rivoluzione del mondo del lavoro sarà uno dei temi approfonditi a Trento perché oggi c'è anche una situazione un po' paradossale. Alla fine, negli ultimi anni, l'occupazione è cresciuta ma ha tagliato fuori proprio una parte significativa dei giovani e bisogna cercare di capire perché oggi in Italia ci sono 500 mila posti di lavoro pronti per essere occupati e non ci sono le professionalità adeguate per ricoprirli. C'è una questione demografica per cui l'Italia si sta trasformando in villarzilla. Noi tra una ventina d'anni avremo tre italiani su quattro che avranno più di 65 anni. Il livello delle nascite è sceso sotto 400 mila nascite all'anno che rappresentano, secondo i demografi, un punto di non ritorno. Ecco, qui occorre capire e soprattutto occorre cercare di farsi gli strumenti per essere protagonisti e certamente la delega rientra nella democrazia ma deve essere una delega consapevole e non può essere una estragnazione dalla volontà, da un atteggiamento che deve essere quello di intervenire, di essere pronti a dare dei contributi quotidiani, nel piccolo ma anche nel grande di una democrazia che deve essere vissuta attraverso la partecipazione perché se no non è più democrazia. Grazie direttore e allora vediamoci a Trento dal 23 al 26 maggio per la diciannovesima edizione del Festival dell'Economia. Se queste sono le premesse sarà un'altra grande edizione di questo prezioso festival. Grazie mille per essere stato con noi direttore. Grazie a voi, se mi consentite l'ultima battuta di pochi secondi ci saranno anche il Cardinale Ravasi che farà l'introduzione al festival nella giornata di inaugurazione e anche il Cardinale Zuppi. Con molto piacere, con molto piacere invitiamo tutti quanti i nostri telespettatori a collegarsi con il sito ufficiale della manifestazione, lo avevamo visto in apertura e con i vari canali social e YouTube per seguire anche quegli appuntamenti che andranno in diretta streaming. Ancora buon lavoro direttore e arrivederci a presto, magari a fine festival per fare un bilancio di quello che è successo. Molto volentieri. Arrivederci direttore e grazie mille. Grazie a voi. E noi restituiamo la linea alla regia ma ci ritroviamo subito dopo.